Il programma di settembre-giugno è l'ultimo incontro in cui presentiamo i libri. Professore, buonasera. Accomodatevi, così vi aspettiamo per questa brevissima introduzione. Accomodatevi. Ecco, avevo appena finito di dire che questo è l'ultimo incontro della stagione 2018-2019. Riprenderemo i lavori a ottobre e faremo un calendario a ottobre-gennaio-giugno. L'evento di questa sera noi speriamo che attiri molti rifredini perché i narratori, perché i libri sono due, e vedremo l'originalità anche di questi due libri. Perché ne presentiamo due e come i due libri si integrino. Abbiamo Massimo Acciai Bagiani con Il Sognatore Divergente e parlerà di Carlo Messinger. Mentre Carlo Messinger parlerà viceversa di Massimo Bagiani. Quindi due libri che si completano. Uno fa la biografia dell'altro raccontando come in questo quartiere, quartiere 5, Rifredi, che è forse il quartiere più grande della città, quando io ero consigliera anni e anni fa di questo quartiere, noi dicevamo che è la terza città della Toscana per abitanti. Quindi figuratevi quanto è grande perché va dalle piagge fino al confine con Piazza della Libertà e quindi con il quartiere 1 e di là con Piazza dei Refredi. Con questa premessa dico che il quartiere di Rifredi oggi, rispetto al passato, ha cambiato volto. Chi è nato a Rifredi o ci vive o è vissuto gli anni ha visto un passaggio storico. Dalla Rifredi industriale, dalla Rifredi dove i suoni, i rumori erano le sirene che annunciavano il break dell'operario perché andava a mangiare, il break con le sirene perché si fermava il lavoro e le manifestazioni. Quindi i rifredini ricordano una Rifredi industria, la Galileo e tante altre che non sto a numerare perché il tema non è questo, però il background storico del quartiere è questo. Oggi il quartiere, non oggi, ma già da un ventennio o trentennio ha cambiato volto. Non è più la Rifredi dell'industria ma è un quartiere come tanti altri nella città. C'è, dobbiamo dire, una prevalenza di immigrati che pare che si siano anche ben amalgamati con il tessuto locale che imparano l'italiano e qui in questo mutuo soccorso si fanno i corsi di italiano L2 proprio per imparare l'italiano. Quindi il quartiere di rifredi è un po' ha cambiato molto. Le scuole sono sempre quelle, Matteotti, Poliziano, Liceo Dante, Liceo Leonardo da Vinci. C'è sempre stato un contesto di lavoro ma anche di studio in questo quartiere. E poco a poco questa che era una biblioteca chiusa è stata riaperta. Questa biblioteca oggi fa parte di tutte le biblioteche fiorentine. Si possono prendere libri, leggere, ecco, come qualunque biblioteca. E noi la stiamo sfruttando per fatti culturali, incontri con l'autore. Allora, questo brevissimo preangolo per dire che i due autori di questa sera che hanno scambiato le biografie sono Rifredini. Rifredino è anche il musicista che darà inizio a questa presentazione con una musica e con delle parole, credo, che abbia scritto lui stesso su Rifredi. Bene, grazie. Ascoltiamo. Grazie a presentare un attimo, Tommaso Boffer, che ringrazio per essere venuto qui a cantarci questa canzone che ha scritto lui stesso, dedicata al quartiere. Quando l'ho seguito ha detto, ah, ci vuole. Casca proprio un attimo, è meglio di così, insomma. E il Tommaso ci sono conosciato da tanti, tanti anni. L'avamo scuola insieme proprio qui a Matteo. Stavamo in Pia Malpini, entrambi nella stessa via. Quindi, diciamo, come appartenenza al quartiere, è bella profonda. Io sono nato e cresciuto da Rifredi, tra il Poggetto, Piazza d'Armazia e anche l'SMS, e ho una forte appartenenza al quartiere. E quindi, per questo motivo, ho detto, ma, omaggiamo un quartiere di qualcosa, un paio di note. E, insomma, la roba che ho scritto è questa, si chiama Rifredi. Non sono musicista né un artista, ma proprio cosa avanza tempo. E dura due minuti, quindi si fa veloce, insomma. Sono nato e sono cresciuto nel quartiere di Rifredi. Matteotti, poliziano, nonno ci portava a piedi. Con la casa in via Malpighi e la nonna in via Mercato, con gli amici della scuola giocavamo agli spietati. Scusate. Con le amici e i cervottane nel barcheggio del Poggetto, era tutto così grande, così intimo e perfetto. La amici e i motorini, vedi il sabato di sgrazia, se trovavi il corpolaio chiuso in poce a farmazzo. No, riferiti in nonna in via. No, qui non è periferia. No, riferiti in forza e magia. No, qui non è periferia. Sono cresciuti in bicicletta, la solita del Poggetto, pure in vecchio c'erano le voce e le norme del campetto. Nel mio tanto è l'eroina e qualcuno ci è rimasto, i novanti della spallina è capitato e l'ottimismo. Ma che eravamo quelli con i parenti, con la banda, ricercati per il paccheggio delle parti della standa. Le paghette a spese in raudi e pedagli alle guande, mentre in quelli un po' più grandi si facevano le canne. No, riferiti in nonna in via. No, qui non è periferia. No, riferiti in forza e magia. No, qui non è periferia. Prima di via d'alto di bar, poi il gelato e il baroncino, le sedate sono tutti, poi da nel regno si è frugino. Oppure un sostegno in verità ne riparo allo svolto, ed ancora mi rivedo, così, per i piedi della flor. No, voglio fare un preliti per dover contanarmi. Mi lavoro alla figlione con i tanti cambiati. Qui è dove sono nato, qui è dove sono cresciuto. Qui è dove la mia casa, mi viene costituito. No, riferiti in nonna in via. No, qui non è periferia. No, riferiti in forza e magia. No, qui non è periferia. Puoi trovarmi in giro a piedi, tra i negozi che va a bari. Sempre in crisi alla stazione, a due passi dai binari. Da un quartiere popolare, vero e spiego se ci credi. Vieni pure qui a trovarci, siamo tutti nei rifredi. Buongiorno. 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 Bene. Viene la di qua. Complimenti, se le farà piacere, a ottobre. In apertura la rinvitiamo. Sì. Prenderemo poi il suo... Sì, noi diciamo proprio due parole per introdurre il tipo di libro, di messaggio che dà. Bene. In apertura, brevissima presentazione perché, come dicevo, i libri sono particolari. Sono due biografie, l'uno ha fatto la biografia dell'anno. E non si tratta semplicemente di una biografia, ma si tratta anche, direi, di una evoluzione letteraria. Di una educazione letteraria. Quindi noi vediamo come nella biografia di uno i progressi, le pubblicazioni, le iniziali pubblicazioni per arrivare poi a oggi. L'incontro, come questi due scrittori nati a rifredi, si sono conosciuti e quindi poi ne parleranno magari loro. Eventi pubblici, eh? Eventi letterari pubblici dove i due scrittori si incontrano e la loro amicizia letteraria si consolida. Ma che tipo quindi di libri su, di solito, scrittori, autori, poeti trovano affinità in un genere letterario? Se io per esempio mi occupo di poesia, trovo affinità con chi scrive poesia e così via. La loro affinità è in un genere letterario che noi possiamo definire fantascienza, utopia, distopia o ucronia. Questo è un termine forse abbastanza nuovo per chi non è addetto ai lavori, cioè chi non legge in continuazione libri di ucronia. E' bene dare qualche idea di cosa si capisce. Ucronia è un termine che nasce dal greco e a differenza di utopia che vuol dire in nessun uomo, ucronia vuol dire in nessun tempo, perché l'utopia, la distopia di questo tipo di romanzi consiste in che cosa? Nel descrivere un evento, di solito eventi storici, di grande importanza, non so, Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America, la caduta dell'impero romano. Faccio solo qualche esempio, però trattati come, non con una cronologia e una osservanza storico-scientifica, ma in maniera parallela segnando uno svolgimento a questo tipo di eventi diverso da come l'evento si è svolto. Ad esempio, se Hitler non fosse morto, non fosse stato ucciso, che cosa sarebbe successo? Ecco la utopia, la distopia, per cui si immagina, partendo da un passato o da un presente, un futuro. Ecco l'affinità letteraria su cui i due scrittori si sono incontrati, in questo tema letterario che va dalla fantascienza, all'utopia, alla distopia, all'ucronia. Leggevo che, di Aciari lo sapevo, che sono anche poeti. Hanno pubblicato, di Aciari lo sapevamo perché gli abbiamo presentato qui un'antologia veramente poetica, particolare. perché non era al libro, ma era una cosa, le parleranno a voi, anche a voi, anche a voi, anche a voi. La verità è una curiosa, particolare. Ecco, una qualcosa che ti porti in taschino, la cosiddetta letteratura da taschino che oggi vale. E non sapevamo che anche Messinger era, anche lui, autore di poesia. L'abbiamo scoperto attraverso il libro di Aciari. Quindi, adesso procederemo con ciò che Aciari aggiungerà, ciò che vi ho detto, ma poi lasceremo i due autori. E poi si ripresentino e presentino eventi, momenti che io credo che siano importanti, sia per lo sviluppo culturale letterario di questo anche genere a cui ho accennato, ma anche per questa bella amicizia letteraria che poi sono amicizie letterarie che contribuiscono a dare una certa empatia anche al lettore. Grazie, la parola alla chichetta. Pochissime parole, perché, da che ho capito, l'unica che non appartiene a rifletti sono quelle, quindi dall'altra parte della città. Però, naturalmente, quando si studia sia la letteratura, che siamo a Vasto Cattolini, ma anche la storia, la storia di Firenze si incentra anche molto sul libro, la storia del 800, ad esempio. Perché? Perché era un quartiere, come ci è stato ricordato, un quartiere particolare, basta pensare alla realtà industriale, che oggi non ci sogniamo neppure, grandi fabbriche come la Parileo, la Parileo con le lenti ottiche, è una delle prime in Europa, la Manette a Roma, credo ne fosse anche qua. E quindi, e non solo intorno a questo nucleo operaio, eh sì, proprio è storia, si formarono le prime società di mutuo soccorso, come questa nostra SMS indica, e quindi una realtà avanzata anche sul campo sociale. Le società di mutuo soccorso dovevano aiutare, riunirsi, chiamiamole operative, proprio per aiutare queste realtà operarie, che, come sappiamo, come stiamo ammettendo, erano, vivevano in condizioni anche molto dure, e quindi gli sciopperi di inizio novecento, che poi passeranno in tutta Italia, dal campo agricolo al campo industriale, e poi, per finire, in questo modo, bruciati durante l'epoca fascista, e quindi perché si brucia qualcosa? Perché si deve bruciare il simbolo. E quindi, stiamo attenti, insomma, non è mai del tutto assodato, specialmente in questi tempi, che quelli dove abbiamo conquistato gli spazi, stiamo attenti a che, in nome di un vago incerto di innovamento, non ci troviamo, di nuovo, a essere bruciati, magari, da qualche parte, eh, vabbè, ma scusate. E stasera mi è venuto in mente, almeno, eh, vi ricordate quel simpaticissimo romanzo, lo strano caso del canno di cinza a mezzanotte, di Mark Haddon? Ecco, io quando ho visto questi due tempi, ho uno strano caso, anche a riprendi, ma solo perché la realtà è molto diversa. Due autori che, per caso, penso, si sono trovati a vivere, ma a riprendi, quindi uniti, non solo nel, fisicamente, nel luogo dove abitano, ma anche nella loro narrazione. Perché sì, sono due scrittori, due poeti, ma qual è da caso? In questo infinito genere, ormai, eh, esiste, no? E poi, i generi, anche loro, si sono immilati e mediciati, e vanno in un filone che, vedo, mi è perso avere diverse affinità. E, quindi, cosa di meglio hanno creduto di fare? Di scrivere due libri, ma in cui uno è la biografia dell'altro. Ma una biografia assolutamente, no? Di cento pagina, una biografia che fa veramente il quadro completo di questo. E, quindi, io parlerò pochissimo, perché meglio è che l'uno interpretino l'altro. E, per soffermarmi un pochino di più su quello che noi credevamo di averti voluto a battesimo, con il suo primo romanzo nel 2011, sempre a destra, e quindi è massimo acciare, che, da quante volte è venuto qui, possiamo un po' ormai definire il genus, la osce. E poi li chiamiamo, diciamo, narratori di rifredi, e va bene. Ma, soprattutto, narratori di rifredi, perché fisicamente stanno qui, perché si sono gli addetti incontrati. Ma non ci sono persone che invece spaziano, così, grandemente, nel tempo e nello spazio. Ora, io non conosco questi libri, ma si è parlato di tempi che vengono, diciamo, manipolati come lo spazio. Anche accomunati dalla comune passione per la fantascienza. Io, quando ho letto il primo romanzo, viacciai sempre a Estra, e ti devo dire, che mi sono interrogata a trovare simboli nascosti, nel viaggio iniziato, poi dove portare, però c'era qualcosa che non tornava. Perché? Perché eravamo in un altro genere, che poi via via abbiamo imparato a conoscere. E' molto importante, penso, questa biografia di Carlo Messo, che era il narratore di Islì, perché fa la figura, traccia questa figura di acciare, in tutta la sua polietrica sfaccettatura, perché? Ma, romanziere, autore di racconti, saggista, poeta, linguista, perché la parte della lingua, che Mari specificamente ha dato affrontato qui, ma è molto importante, perché acciare è un'esperattista, e quindi tutto un'elaborazione, un lavoro, non solo su una lingua, ma sulle lingue. e invece non trascurano, quindi anche memorialista possiamo dire, perché qui non ce l'hai portato, ma i radici si rifai, si è un po' cugino. Ma se non lo deve, se ne è la scatola, deve presentarlo qui. Perché avrai colpito questi radici del bucello? Perché tu nomini, Ossi, Vicchio, Santa Maria Albezzano, che sono anche nella mia storia. Per me, quando tu dici Vicchio, Santa Maria Albezzano, le caselle, per me sono volti, sono volti di persone grandi, ma sono volti anch'essi, beh, che adesso saranno lonti, forse anche loro, però, e quindi, mi piaceva molto che tu ce l'avessi portato, ma non per mostrarlo, ma per parlarlo, insomma, ti perdoniamo, ti perdoniamo, sì, sì, sì. Ma non solo, è un saggista, anche un saggista, perché, e questo l'abbiamo presentato, la metafora del giardino e letteratura, ed è un'opera veramente completa, perché dal giardino dell'Ede, via via a seguire nel mondo arabo, nel mondo greco, e via via, fino alla contemporaneità, ed è poi formato stesso, fatto di schede, no? Gli autori, gli autori, una scheda. È un'opera veramente precevole, precevole, come la comunicazione, nella fantascienza, che credo sia stata la potenza in Italia, e che accentua poi questo tema importantissimo, che è la comunicazione. Oggi è tutto si risolve in comunicazione, deve essere quanto più rapida, più superficiale, più poi non importa, adesso è sottotitale, e quindi la comunicazione è un tema con cui veramente ogni giorno meriterebbe di confrontarsi. e è anche un novello boccaccio, almeno lo stato, la compagnia dei lanciatori del tempo, e qui spazia veramente solo nel quartiere, ma nei luoghi, diciamo, tipici della letteratura, di Firenze come le cibre rosse. e questa novella compagnia non funge dalla peste come i falcini dei falcini del boccaccio, ma fungono da una realtà contemporanea, trovandosi nei posti più disparati e con molta, con molta forza anche di successione, con il luogo. E' definito e poi le storie, ecco, e le storie si ritorna in questo futuro, no? Che vede come è, come potrebbe essere, per cui mi sembra ci sia un racconto in cui proprio il protagonista o la protagonista vive questo spaesamento tra una parte della vea che è rimasta nel contemporaneo e questa che è avanzata molto di più. E poi anche uno sperimentatore che prima del successo del connettivo Wubing ha provato la scrittura a quattro mani. Massimino, parlami del cielo! Eh, nella premessa? Ti sei l'uno regolico, tu forse no! Ti sei l'uno regolico, tu forse no! Ecco, che era veramente, ed era la preparazione del suo coautore Matteo Nicotemo e a seconda di come volgono lo sguardo e mentre il suo coautore lo svolgeva a terra a sciaio, diceva, cerca veramente queste poesie che vivevano questa spesa, suasatura nell'arco della stessa poesia mostrava rispondo poi la personalità diversa di questi due autori. Ma in questo narratore dei rifiuti, che è proprio il profilo, penso che è il sambiente, di Massimo Aciari, c'è poi nella quarta parte un intervento diretta di Massimo che esordisce in un modo un po' strano, cioè strano nel senso della meraviglia. sottolineo sempre il mio senso di non appartenenza ha dato un nuovo. Quindi, un ripresi per caso, ma invece, se si approfondisce, poi si scordono le pagine, si vede che poi, anche non volendo, anche non riconoscendo, c'è questo vicolo, perché in fondo casa è quella che custodisce un nucleo d'affetto. E gli affetti non sono solo quelli della famiglia, sono già stati ricordati dei luoghi che sono un topista in panza, la Matteotti, il giardino della Flora, e quindi, forse non è mai possibile ritornare a questi luoghi con un senso di distacco. E c'è l'impianto per la sua vera casa, quella che mi chiama vera casa, quella in cima, la salita di Damalpighi. Ma stai lì tu ora? No, ora, ora no. E' qui. Qui ti è. Eh, allora, è una cosa, permettetemi di leggere qualche riga, perché, anche se questa affermazione che comincia, che si è da tutto cittadini nel mondo, no? E' dello spazio, come loro si sentono, forse, ma c'è il dettaglio che colpisce l'affermamento, no? L'emozione da cui non ci difendiamo mai del tutto. E che bene, forse, che ci colpisca così, perché ci rimanda a un sentimento molto umano, e anche di appartenenza. Dice, questa acciare che parla, talvolta, un dettaglio, può evitare qualcosa di familiare a uno straniero, e diciamo, portarlo a un'età più felice, e insieme a molto lontano del tempo. Così, un lobo sconosciuto, d'improvviso, si fa quasi una casa, più casa della propria, perché la prima casa, è sempre la migliore, anche se più scomoda. I ricordi sono così, quando non li cerchi, sono loro che cercano di, e chissà quanti luoghi simili ci sono spazi nel mondo. E questo è acciare che parla a se stesso. E, come si vede, cittadino del mondo e dello spazio, ma in fondo questa radice di Fredrina c'è, e quindi ben bella questo narratore di Fredrina. Ma vorremmo contare, mostrandoli una antologia che è già stata ricordata, antologia di un quarto di secolo, 1991-2016, e uno si aspetta un grande volume, mentre invece questo, come già tentava di mostrarvi, e io ve l'ho prognito. Perché veramente, quando noi abbiamo ricevuto questa informativa, e allora, mi piaceva leggere, le prime, una prima e una ultima, ultima nel senso, perché si vede, sia la vocazione, primigeia, ma anche l'evoluzione. 1901-1991, guarda, suve il cielo, presto chiuderà, soffia, soffia, porti il vento, che succederà? Guarda l'orologio, mezzanotte già, un lampo di riscuote, un tuono seguile. Vedete, c'è proprio... E' una manzone, non so per dire una manzone. E' anche una manzone, e c'ha il ritmo della manzone, e poi c'è la lima. Sì, perché sta dietro alla musica. Sì, però è anche l'approccio, penso, più spontaneo, almeno secondo uno stilema, che ormai molto meno, ma per un certo tempo, è stato legato alla misia. Mentre invece, mi prendo una a caso, Montpellier, si parla ancora di paese, però ha un respiro molto più ampio, ormai l'acciai, il cittadino del mondo, e quindi parla, la intitola anche in un'altra lingua. Siamo nel 2010, quindi ancora avrà molta strada da fare, ma molta mi ha fatta. La geografia del cuore non siede linee dei confini, vi sono luoghi vicini e lontani, dove ho posato sguardo e respiro. Non all'Italia, a Firenze, o al quartiere, ho il suo pensiero, ma al vero aspetto del cielo d'ottuno, che ovunque è uguale, e ovunque lo accoglie, e non cogli gli stigli, continui sulla carta. e mille contorni che abbraccio con gli occhi, e mille ritorni a nomi che vissi. E quindi, ha già anche poeta, e poi tante altre cose che si scalderanno fra loro. Grazie. Grazie. La parola, questo, a me. Carlo Menziger, vi allaccio alle ultime parole della signora Regheta, sul tema della territorialità di Massimo Aciai. Non per nulla questo libro l'ho chiamato Il narratore di Ifredi, e c'è appunto una connotazione geografica che è quella di questo quartiere. Ma Massimo, diciamo, sì, prima si diceva che è staccato, si sente non appartenere la vita a una terra, però, in realtà, leggendo i suoi libri, vedo invece un svolto di attaccamento non solo alla città di Ifredi, per nulla, l'ho definito il narratore di Ifredi, ma anche a quelle che sono le sue radici, no? Cioè, lui ha pubblicato già due libri, questo radici più dedicato al Mugello e un altro dedicato al Casentino, scoprire cercatore di storie e di esterni, di esterni, cercatore di storie e di esterni, sì, e sono tutte e due dei libri che parlano della sua famiglia, perché una è la famiglia materna e l'altra è la famiglia paterna e sono dei libri sul territorio perché parlano sì della famiglia ma parlano di queste terre del del modo di vivere queste zone e di alcune località rilevanti sono nel contempo libri di viaggio libri di memoria libri di riscoperta di radici e dei saggi un po' di tutto quindi diciamo questo è uno degli aspetti del Massimo Marciai saggista diciamo uno dei primi che ho conosciuto e qui vorrei aggiungere questo cioè che è stato proprio tramite questo libro radici e il mio il sogno dell'anno che ci siamo conosciuti e in effetti e vedi da qui vi spiego poi la genesi della nascita di questi due libri ci si conosce da poco tutto sommato Massimo Acciai e Dio ci siamo incontrati nel 2017 vera addirittura la fine nel 2017 in occasione di una della presentazione appunto di questo radici e del sogno del ramo non so se riesci a usare un quarto in un primo di c'è due di se questo è in un'occasione di presentazione di questi due libri ci siamo incontrati ma non ci siamo neanche parlati a dire il vero perché insomma è un re non altre persone però diciamo ho avuto questo primo contatto poi proprio qui in questa sala sono venuto per la presentazione di Massimo che presentava la compagnia di viaggio di tempo e poi il vicino un foglio di no di poesie e ho letto la compagnia di interattore di tempo il vicino che è un grande editore Roberto Balot che ringrazio attore perché la mia idea è stata su la mia idea ci avremmo apprezzato di prima di cedere Roberto Balot è uno scrittore siamo accomunati dall'amore per la fantascienza e tra l'altro insomma ho appena finito di leggere un interessante il vicino di poesie fantascientifiche che è una cosa abbastanza un poesie e quindi mi dicevo ci siamo incontrati in questa occasione Massimo ha letto Il sogno del nagno gli è piaciuto e ha trovato come si diceva la signora una consonanza diciamo nella lettura ne ha letti altri diciamo siamo tutti due autori non professionisti ma abbastanza prolifici insomma non morale della favola si è letto 4-5 libri miei e dice ma ti posso fare un'intervista e dico perché no mi ha dato un paio di libri così completo mi ha dato un paio di libri e leggi leggi e alla fine ne ha letti 18 mi sembra da una cosa in l'altra e a quel punto dice ma io faccio un libro dico onoratissimo mi ha dato un piacere se lo vuoi fare fanno e quindi è nato il sognatore divergente questo qua che poi in realtà non l'ha scritto solo lui ecco qua dovevo dire che non si è detto finora questi due libri li abbiamo curati Massimo e Dio poi all'interno ci sono le collaborazioni di sbagliate persone perché dentro a quell'assonatore divergente ci sono poi tutti i contributi di alcune persone che comunque mi hanno letto mi hanno conosciuto e hanno lasciato le loro testimonianze c'è questa copertina realizzata da uno dei miei illustratori più abituali che è Angelo Fondello che mi ritrae con alcuni personaggi dei miei libri c'è un'altra illustrazione di un altro mio illustratore che è di Colo Pizzorno all'interno e diciamo allora questi due volumi hanno poi in cui siamo arrivati a andare a vedere di Frede mi stavo fermando qua prima di approfondire a quel punto Massimo leggeva i miei libri io quando qualcuno mi legge se ha scritto qualcosa sono abituato a leggere la mia volontà e quindi leggevo anche i suoi e trovavo anche io insomma questa questa comunanza e quindi piano piano io ho finito per leggere varie cose per leggere varie cose ma diciamo alla fine ho voluto connotare questo volume che è il narratore di 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 con questa appartenenza al quartiere di 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 e come l'ho fatto diciamo una metà del libro parla di Massimo Acciario un'altra metà parla del quartiere di 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 dire il vero. Parla di qualche legge di Fredi in che modo? Ne parla con alcuni articoli diciamo sagistici miei e suomi, ne parla con alcuni racconti, ne parla con qualche breve poesia, soprattutto per non farci mancare un genere. E questo un po' diciamo dà anche l'idea del, come diceva già la signora Righetta, della ricchezza della produzione di Massimo Sciari, che è un po' quello che mi ha colpito, no? Perché effettivamente già questo stesso libro, come dicevo, è il viaggio, è scoperta di radici familiari, è un saggio sulla vita punta di Nazio, ma è tante cose. Ma lui ha scritto dei saggi, come accennava la signora, di linguistica molto interessanti, le lingue inventate, no? Cioè, lui è un esperantista e l'esperanto è una lingua inventata, non è una sola, ce ne sono tante altre, alcune ancora più strane e non è illuminate, sì, e sono affatto questo saggio su questa cosa. La comunicazione sulla fantascienza è uno dei temi fondamentali della fantascienza, cioè spesso quando c'è gente che dice che non mi piace la fantascienza, sì, dipende che hai visto, perché in effetti ci sono in giro certe cose che ti fanno veramente pensare i belli sulle braccia, perché hanno delle debolezze e spesso queste debolezze sono proprio nella comunicazione, nel modo in cui comuni erano questi personaggi, no? Perché è la Star Trek, può piacere, ne ho visto tante puntate, però questi alieni che parlano, come subito, comunicano subito facilmente tra di loro, parlano questa lingua, diciamo, inglese, sono tutti umanoi, non va bene, non so, no? Quindi, diciamo, il saper creare, no? Anche i linguaggi nella fantascienza è fondamentale. Poi è fondamentale poesie, ha scritto opere fantasy, perché fantascienza e fantasy sono cose che sono diverse, e quindi veramente tante cose. Da questa conoscenza poi sono nate altre cose, in realtà, perché abbiamo persino scritto un romanzo assieme, ancora inedito, e questo romanzo, diciamo, è un'opera a quattro mani. Si diceva Massimo, scritto a quattro mani, anche io ho scritto a quattro, sei mani, anche di più. Diciamo, viviamo, questa è un'altra cosa che ci accomuna, viviamo la scrittura come un momento sociale, non come un momento di ritirarsi in se stesso, sulle soldate carte leopardiane, chiusi in una stanzetta, no? Cioè, da sempre scriviamo in condivisione. Questi stessi due libri sono un esempio di condivisione, di creare qualche cosa assieme. Io ho scritto, per esempio, un libro a sei mani, un romanzo di fantascienza odica, e poi l'ho fatto illustrare da 17 artisti, perché c'erano fotografi, pittori, disegnatori, e che ne è venuta fuori un'opera a venti mani, insomma, diciamo, un'opera collettiva, insomma, spesso abbiamo dato tutte e due svariate antologie, Massimo come direttore della rivista Segreti di Cucinella, ogni cinque anni fa se un numero di questa rivista è un'antologia, diciamo, di scritti di questa rivista, insomma, quindi è questo un po', diciamo, uno degli aspetti. Ora non voglio parlare tanto, poi lascio un po' la parola Massimo, poi mi fermo anche su di te. Lei ha detto la fantascienza sempre, allora, quali sono gli stili nuovi della fantascienza? Allora, non è il nuovo o vecchio, perché diciamo, il vecchio continua sempre, è diciamo, è una questione, allora, c'è fantascienza, è fantascienza, no? Allora, anche l'uronia, anche cos'è fantascienza, qualcuno la colloca dietro a fantascienza, io tra l'altro, e vengo dalla settimana scorsa, ero finalista a un premio nazionale di fantascienza con un romanzo cronico che giustamente non ha finito, perché è un'uronia che è figlia del romanzo storico, è diciamo, è molto più vicino al romanzo storico che alla fantascienza, quindi è stato un miracolo che sono arrivato in finale e non mi aspettavo certo di vincere, perché ero assolutamente al di fuori degli stilei principali, ma a parte questo, allora, per me la fantascienza deve essere creativa, la fantascienza è la forma letteraria più creativa che possa esistere teoricamente e quindi, diciamo, gli autori di fantascienza che realizzano al meglio quello che possono fare sono quelli che creano dei mondi totalmente nuovi, che sono capaci di inventare personaggi, mondi che sono il più possibile distanti dal nostro mondo, ma ovviamente, siccome la lettura è rivolta a un pubblico umano, devono essere un autore umano, ma devono quindi comunque avere, e questo è il grosso equilibrio, al loro interno un messaggio che comunque possa emozionare e creare empatia in un lettore, un don umano, un padrone di allievi, per dire, insomma, no? E questa è la grande difficoltà. Diciamo, il mio romanzo, Via da Sparta, che poi sono tre volumi, diciamo, Il sogno del rano, La figlia del rano, cosa fa? È un'impronia e cerca di creare un mondo, cioè lì in pratica è una variazione storica, no? Io ho detto, immaginiamo che 2400 anni fa sia cambiato qualcosa della storia e che oggi ci troviamo in una situazione totalmente diversa. Cosa è cambiato? La città di Sparta ha sconfitto Tebe, è andata viceversa nella battaglia di Eroca, ne è conseguita la distruzione di Atene, la scomparsa totale di tutta la cultura ateniense da un nostro mondo, 2400 anni fa. Che succede? La scomparsa totale della cultura ateniense ha delle ripercussioni colossali, il classicismo non può esserci più, il rinascimento non può esserci più, la rivoluzione francese, tutto questo si è perso. E quindi immaginiamo un mondo nuovo con una tecnologia diversa, con un modo di vivere diverso, con usi e costumi completamente diversi e questo è l'ambiente in cui è raccontata la storia di Via da Sparta. Un po' di vivere diverso. Certo, l'ho preso perfettamente. Direi il binocchio fantascienza e libro del futuro e l'impatto è questo, perché mentre il libro di fantascienza passando il tempo può essere superato come è avvenuto. I primi libri di fantascienza si basavano su che cosa? Sul viaggio nello spazio e quello era qualcosa di utopico, perché il viaggio sulla luna, ma cos'era? Quando i viaggi sulla luna si realizzano l'utopia crolla. Mentre il genere di ucronia, il genere di ucronia è ben diverso e come diceva, appartiene più al mondo della storia e non della fantascienza, perché l'ucronia, il dissidio sparta-atene c'è sempre, c'è sempre stato. Bisogna vedere il punto di vista con cui l'autore la tratta. Ecco direi la preziosità dei due generi e l'evoluzione diversa che i due generi del tempo hanno. Se diciamo che l'ucronia è un genere che ha veramente dei potenziali narrativi bassissimi. Diciamo che il primo a scrivere ucronia è stato Tito Livio, a Borbe Comunità, in cui immaginò per esempio un conto di Alessandro Magno dei Romani. Il termine nasce nel 1857 con Charles de Lugier, che era un saggio, però non era un giocatore. Lui immaginava un mondo dei mondi alternativi a livello saggistico, cioè come l'ucronia, come strumento per studiare la storia. Ma poi abbiamo anche autori importantissimi che l'hanno fatto, ma che non vengono sottolineati. No, no, perché per loro è un libro minore, non solo un libro... Non è necessariamente minore, ma semplicemente non viene etichettato. Per dire, Saramago, la tentazione di Cristo, è un'ucronia, cioè si immagina, la vita alternativa di Cristo. Di Sciguro, un altro premio Nobel come Saramago, ha scritto un'ucronia, non lasciarli così, ma anche una grande Italia è pesante, è un mondo molto duro, un mondo distopico, ma anche un cronico, perché una grande Italia non esiste. Quando hanno dato il Nobel, l'hanno per strozzare. No, ma non è un grandissimo futuro. Winston Churchill, l'altro premio Nobel, che scrisse sulle gare, sulla battaglia di Getty, Smutters, che scrisse su Hitler. Poi abbiamo anche degli autori in bestseller, come Stephen King, 22-11-63, della Torre Nera, e le parezze trecenti. La svastica sul sole? La svastica sul sole, certo che hanno 65 croniche. Quello è il riconoscimento cronico. Cioè, quando si fa un esempio di l'ucronia si dice la svastica sul sole, fa Averland, però appunto quello che stavo citando erano opere che sono croniche, che hanno odori importanti, ma che non viene detto che sono croniche, insomma, no? Pre, ce ne sono, sono state scritte, non infinite, e ce ne potrebbero scritte, se ne potrebbero scritte da tanto. Sì, grazie. Sono contento di essere stasera davanti a Cagninza, che mi riconosco, e in qualche modo si allaccia anche alle cose, si dice che abbiamo parlato troppo d'utronia. che abbiamo parlato di storia. Quindi, se vuoi, potreste domande. Certo. Roberto, allora, abbiamo già detto, la fantascienza, cos'è la fantascienza, insomma. Abbiamo presentato il libro, ricordano. C'è le lettere... Sì, di Federico Azzamini. Esatto. E lui è venente. E lui è come di due, ma anche... E a proposito, qua, faccio un po' la parentesi, io sono oggi in veste di autore, ma anche di rappresentante della politica Forseguro, che ha pubblicato questi nostri libri, e anche altri che ho scritto. Sì, ecco, questa apparente contraddizione di Cagnuolo Sbocuitismo e di un attaccamento al quartiere. Io sono nato a Rifedi, a Reggi, in naturale, in ospedale. Una volta si nasce da casa, io invece... Quasi dai, faccio la generazione, qui si nasce in ospedale. non sperate. Però la mia prima casa non era di Fede, da Gagnana. Ma non mi ricordo nulla, perché ci sono stato solo per i più di due anni. Poi sono andato a vivere a Progetto, in piano di Bibi, dove vive anche... Ma vivi sempre biondi? No. Vedo spettuto. Eh, vabbè, sempre comunque... In zone. Sì, no. Eh... Femmettavano le storie ambientali qui a Don Matteotti, dove ho conosciuto Tommaso e altri personaggi. In Tommaso, già all'epoca c'era questa mena artistica. C'era questo libro, perché si scrivevano così e insieme... C'era questa cosa particolare. e quindi l'apporto con il quartiere, un rapporto forte. Come dicevo, io poi mi sono trasferito a tutti i generi di la stazione del quartiere, però non più l'altro. Ehm... Ma come già stato detto, ho conosciuto Carlo, in occasione dell'appresentazione di questo libro, 13. Io andiamo anche con Siro, che citato anche lui in quanto si parla dell'Amo, dell'Amo e 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 dell'Amo. Il mio zio Siro, per l'altro, anche lui artista, perché c'è questa fine artistica che va già, che scorre. E' stato riuscito anche questo libro che non l'ha curato da me. C'è questa... Competente! Questa anticipazione. Che tipo di arte è il mio zio? Un po' di tutto. Fa da pittore, scultore... Interessante! Insomma, a me ha oggetti, scrive poesie, canzoni... Di tutto. Anche a me. Un artista molto bello. Ecco. Ehm... Cosa devo dire? Sì, appunto, insieme al mio lucino Pino, che abbiamo il libro di Italo Magnelli, abbiamo fatto questo libro, abbiamo pubblicato un porto seguro, che è una casa tipice in Chiese, per cui sto lavorando con questo libro. Adesso sto lavorando con questo libro. E... Contemporaneamente sono usciti anche altri libri, sono stati presentati in questa presentazione collettiva che è una casa tipice che fa una porta al mese. La prossima è il 13 giugno. Tutti gli dati? Sì, però... E la festa è un altro... Lungardo-Santarosa, no? Tu dovrei dire? No. Il circolo alla Dominetta. Il circolo alla Dominetta. Il circolo alla Dominetta, che è vicino a te lo dicono. Lungardo-Santarosa. 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 Finisce quello, comincia a lavorare sui... Il 13 alle 18. Il 18 è che è una grande festa di fine stante, cioè di inizio stante, scusate. Sì, tutta la prima. Sì, è un posto molto bello, speriamo sia una bella giornata, così si sta tutto all'aperto, arriva al fiume, eccetera eccetera. Tornando a questa presentazione, come già stato detto, quindi non vi ripeto, ho avuto l'idea di scrivere questo libro, su Carlo, che ho trovato subito un autore molto interessante. Il autore è anche lui cosmopolita, perché vive da tanti anni non freddi, ma non è nato non freddi, nata a Roma. La sua famiglia ha origini un po' di tutta Europa, insomma. Sono anche personaggi noti nella storia, eccetera eccetera. Ho cominciato a leggere questi liti, mi ha colpito subito la cosa dell'utronia, perché è un genere letterario che mi interessa molto. Anch'io ho scritto appunti cronici. La differenza, se vogliamo, tra l'utronia di Carlo e la mia... Vabbè, lui è più preparato da questa storia, sicuramente non è vero la tendenza, no? Sì, ma ha un tese di più per tutto. Io ho voluto immaginare, però diciamo... Apparentemente le mie utopie, le utronie scusate, sono più ottimiste. Perché immagino che questo evento della storia è cambiato, porti poi a un mondo migliore. Invece nel caso di Carlo, tra le infinite possibilità che ha un mutamento cronico divergente, appunto non è un caso divergente, la storia ha scelto di parlare di quelli che portano a una società peggiore. E questo, se vogliamo, anche un po' consolante, perché ci dice che tutto sommato, sì, viviamo in un mondo molto imperfetto, ma potevamo andarci peggio, insomma. Potevamo vivere in modi pre peggiori di questo. Sì, è un po' uno dei messaggi, insomma. Sì, ecco, questo messaggio mi è piaciuto molto. Così come quello che l'utronia può puntare, diciamo... Tutti noi possiamo notare la storia, no? Se basta un gesto, no? Sì, è un romanzo divergente. Cioè, un gesto di un indigeno che fa andare con questo frogo un po' in un'altra direzione, incontra gli asteti e non riesce a ritornare indietro, diciamo... E quindi... Un gesto. Un gesto di una nazione cambia la storia. Quindi, anche noi, con un gesto, possiamo cambiare la storia. Ed è curioso che, indipendentemente, senza che io avessi detto questo libro, ho immaginato anch'io una divergenza riguardo all'America. Cosa accadrebbe se non solo l'America non fosse mai stata scoperta, ma non esistesse proprio? Cioè, al costo dell'America ci fosse l'oceano o qualche isoletta, così. Come sarebbe il mondo oggi? Sarebbe piuttosto diverso, insomma. Quindi, vabbè, non ci sarebbe le sigarette, non ci sarebbe il cioccolato, non ci sarebbero le patate, non ci sarebbero le patate e il pomodori, eccetera, eccetera, insomma. Anche qui, Carlo ha immaginato un mondo molto più diverso da quello attuale. Diciamo una cosa, perché sta dicendo queste cose? Perché dentro il Sognatore divergente ci sono anche tre racconti. Uno è il racconto che ho scritto lui, l'altro è il racconto che ho scritto io, elaborando il suo racconto, e poi il terzo è un racconto che ho scritto io autonomamente. Tutti sono una mancata scoperta dell'America. Sì, è, diciamo, come un tema o lui lo svolto a modo suo, insomma. Io lo svolto a mio modo e lui nel suo. Prima si diceva, no, che cos'è che per me è importante nella fantascienza, è il reale, no? Allora, lui ha scritto questo racconto in cui, appunto, non ci sono le sigarette, non c'è il pomodoro, eccetera, e gli ho detto, ma un attimo, non c'è l'America, qui non c'è solo quello. Io, quindi, mi sono inventato un linguaggio nuovo, mi sono inventato delle città che appena le imprendezze, io sono per la teoria di anche la farfalla che batte le ali da una parte troppo a un uragale di un altro continente, no? Per esempio, nelle mie cronie, una piccola cosa modifica il signore. Per un massimo modifica un po' meno delle sue cronie. Sì, pensavo che non è che, come dire, sbagliato mio, no? No, no, no. Sono semplicemente, esatto, quando si crea una divergenza, in realtà si crea infinite possibilità, insomma, e l'amore di cronia riesce a venire anche a queste infinite, insomma. Quindi, anche la stessa, se avessi scritto io via la sparta, l'avrei scritto in modo diverso, probabilmente, anzi, sicuramente, insomma, perché da quella divergenza lì avrei scoperto un mondo diverso. a distanza di tanti anni, tutto può succedere. Esatto. Io lì ho immaginato, per esempio, che è sparata, sopravviva. È ovvio che non potrebbe sopravvivere, no? Ma forse pure alla teola. Può essere. Sì, tutto è possibile. Delle finite possibilità c'è anche quella. Questo è più probabile. Esatto. Quello che mi piace della cronia, della fantascienza, è che tutto è possibile. Non ci sono limiti alla fantasia. Certo, tutto è possibile. Gli unici limiti sono quelli della semiglianza, della coerenza, quello è chiaro, insomma, date certe premesse e poi, insomma, bisogna sviluppare in un certo modo. Però all'interno di questi paletti narrativi si può lasciare tutto. E questa è una cosa che mi piace particolarmente, la narrativa fantastica. che mi fa questa fantascienza, eccetera, eccetera. E quindi in un da, mi sono letto tutti i libri, anche Carlo è lo scrittore e il collega, che ha scritto tutto poesie, racconti, saggi, di tutto. In questo libro qui c'è un po' un catalogo, insomma, delle cose etiche. Vorrei lasciare anche spazio al pubblico se hanno domande, se ci sono domande. Dicevo scusa, è proprio la storia a volte per un pelo più o meno va da una parte generale. Mi sembra l'anno scorso, un anno fa, l'Edo Massimo Manfredi pubblica la battaglia di Teoto Bulgo, e lui stesso dice, beh, questo è andato in un altro modo, l'Europa Unità sarebbe... Allora, quindi, è veramente che basta... Cioè, lo scritto che può lavorare su questo... Questo, come si potrebbe chiamare, frangente... Coincidenza. Questo, eh, coincidenza, per vedere... La natura è fatta. Che cambia veramente. Io ho curato... E quindi la fantasia è un tecnico, eh. Io ho curato anche un'antologia che si chiama Ocronie per il terzo millennio, in cui ci sono alcuni rapporti miei e gli altri 17 autori. e, diciamo, l'idea di questo libro è praticamente a ognuno, diciamo, assegnato dei periodi storici e abbiamo fatto, diciamo, sono viste con una cinquantina di racconti, quindi una cinquantina di situazioni in cui la storia del passato, del medioevo, dell'articolo, avrebbe potuto essere cambiata in certi modi, insomma. Avrebbe potuto essere... Allora... Questa cosa... Volevo aggiungere... Sì, questa cosa di come può cambiare la storia, può avvenire in una scala macroscopica, cioè la storia che si chiama scuola, ma anche la storia dei ciascoltatori. Come sarebbe la nostra vita se nel passato avessimo fatto una scelta piuttosto grande? Sì, se fossimo usciti di casa, non so, cinque minuti prima, piuttosto... Certo, e anche questo... Certo, e anche questo... Certo, e anche questo... Certo, e anche questo... Ecco, il piccolo, nella storia di tutti noi, io penso... No, hai ragione. Se fosse possibile tornare indietro nel tempo, fare delle scelte diverse, insomma, come sarebbe oggi la... 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 La nostra vita. La nostra vita. La nostra vita. Cioè la... Diceva... Noi viviamo nel migliore... Nel migliore... Possibili... Quindi, qualsiasi quale possibilità... Non è... E... Ma... Meggerà, insomma... La nostra... Eh... 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 La nostra... La nostra vita, insomma... Quindi, secondo me... Lucronia di Carlo... Mi sposa molto bene... E questa... Me lo so... La... 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 Perché... Qualsiasi contamento porta comunque... A un mondo peggio... Io ho voluto immaginare... Questo ad esempio... Lucronia... Poi... Si chiudo... Eh... Si è contenuta... No... Non è contenuta a questi libri... Ma è stata pubblicata a parte... In cui immaginando... La rivoluzione francese... C'è... Si... Cosa sarebbe accaduto... Se... Eh... Fosse andato in modo diverso... Cioè... Non ci fosse stato un dettore... Non ci fosse stato Napoleone... E Napoleone fosse morto... Un'altra rivoluzione francese... E questi villi fossero... Stati... Poi esportati... Sì... Scusate... Potete parlare... Se non lo riesco... Non lo riesco... Non lo riesco a dire... Non lo riesco a dire... Io sono perso... No... Non lo riesco a dire... Non lo riesco a dire... Sì... Ecco... Gli... Gli... Cioè... probabilmente sarebbe più indietro dal punto di vista psicologico però sarebbe più avanti dal punto di vista di diritti umani perché insomma sarebbe una cosa molto diversa io ho immaginato il mondo per certi aspetti migliore è un grande punto di vista infatti a me piace più le utopie e le distopie ho letto anche quello, ho letto 1984 di Orwell il mondo dei ragazzi, Farinari 451 però io immagino molti diversi quindi hanno lasciato i migliori di quello di cui viviamo perché non lo so, insomma è un po' una specie di risposta, di rivincita però se stanno sui nostri storia, scusa, i corsi e le corsi non stanno sui storie, quindi a lui c'è il momento in cui se c'è la nostra dependa dopo di che si dovrebbe andare a grande miglioramento poi dopo di nuovo si riprecifita, poi dopo si rinasce cioè c'è un po' questo andazzo sempre quindi pensare che dopo la rinunzione francese va tutto bene siamo tutti ieri, siamo un po' turistico diciamo è una di quelle infinite possibilità certo, ma non potrete durante sempre ecco questo vuol dire no? per sempre purtroppo durante la razza umana però io immagino che comunque ci sia un progresso della razza umana che a un certo punto, e questo è un punto molto importante anzi grazie di avermi fatto evidentemente questa cosa con cui vorrei chiudere il mio intervento la razza umana secondo me sta andando verso un video se continuerà su questa mentalità di guerra, di violenza, di scappazione eccetera eccetera va verso l'estinzione quindi da poi rispondimento ambientale esatto, va verso una nostra distruzione insomma l'ambiente, abbiamo solo questo pianeta insomma non è inutile andare su Marte, Marte è un deserto insomma non si può pensare sicuramente che diventi una seconda terra anche per la formandolo ci vorrebbero migliaia di anni quindi così, dobbiamo tenere ricicare questa terra e così altrimenti un cambiamento di paradigma, di pensiero dell'uomo che comprende che il fare del male agli altri è farlo a noi stessi e in questo caso si va verso una società migliore è un puntista io ho questa idea a un certo punto l'uomo si troverà di fronte a questo video o va verso l'autodistruzione o va verso una società ludomistica se vogliamo ma secondo me l'uomo a un certo punto farà la scelta giusta insomma ci penseranno i nostri diciamo che è giustamente un video molto importante anche lungo, nel senso che veramente i rischi per la nostra civiltà sono una parte più grossi io penso che sì sono anch'io un'ottimista credo che troveremo delle strade per venirne fuori però non sarà facile e non sarà certo verso un mondo ideale sarà comunque un mondo molto difficile molto sovrappopolato tra qui a 30-40 anni se le cose vanno bene sarei 8-9 miliardi di persone che non ci stanno adesso mi piacerebbe sentire anche il pubblico se ci sono domande, situazioni perché l'argomento è stimolante abbiamo toccato tantissimi argomenti stasera veramente tanti avevo letto un applauso bene, ci sono domande perché appunto l'argomento è stimolante chi ha fatto letture chi ha l'ultima cosa la sì è l'ultima cosa però è il panitaccio il contenuto quello che dicevi te è del Libio della parte giustamente quello del detruido non saremo troppi però è lo stesso contenuto del terzo segreto di Fatima cioè del terzo segreto di Fatima cioè che dice o il mondo continuerà come un'era o sceglierà un'altra via una delle tre cose che disse la donna e che poi il segreto poi è stato un po' esperto questo è un segreto è stato complicato questo terzo segreto allora che è un segreto era un segreto poi è stato pubblicato il segreto di cucinetta è un segreto ma è l'inizio l'inizio se stavo facendo un'autoromia mi faccio mi faccio mi faccio non è un'autoromia mi faccio non è un'autoromia non c'è un'autoromia no invece è interessante interessante un'autoromia è un'autoromia è sempre qualcosa che fa parte se c'è uno che si batte per la pace per le cose giuste ci si vanno solo è giusto anche il suo spunto e la sua interna poco ha portato anche all'interno della sua scelta bene altre domande? è davanti che la manzone ci vuole cantare una manzone? una manzone che ho scritto io vieni, vieni la sera si, ovventiti qui, cantaci una manzone io ho detto prima a scrittare una manzone io ho scritto sette manzoni tra quali tre si guardano sempre tutte le serie perché lo dà musicisti senza compagni e suonano un altro una però non ho una voce nel nulla io solo perché fa capire le parole per conoscere allora lei il cardellino si intitola il cardellino perché praticamente gli uccelli ci sono anche sui libri io sono innamorato io sono innamorato di uccelli con le penne non ci fanno andiamo e così l'ho fatto ci ho fatto quadri ci ho fatto l'incelamia l'ho fatto questo cardellino in realtà di voi insieme alla tua uccelli e così ci ho fatto l'ansone su questo cardellino e questa come l'è che io non potessi da un piaggio neanche comunque la si guarda sempre tutte le volte allora è così è un tango un bel mattino di primavera mentre il sole mi valsava in fronte passando per una strada ombrosa e scura mi ritrovai là in cima a quel monte in mezzo al bosco profumato e bello ho incontrato un razio sul cellino ali gialle e rosso intorno al becco il suo nome era cardellino spaventato di me volò lontano accarezzando l'ovio e brato in fiore poi si posò laggiù su un bianco spino sperando forse di incontrare l'amore perché te ne sei andato così in fretta ma io non ti volevo far del male non ho un fucile neppure la gabbietta per potervi ci dentro imprigionare vieni con me all'ombra di quel pino fammi sentire la voce che tu hai sarò tanto felice o cardellino che di te non mi scorderò mai ritorna cardellino torna da me io è una cosa che ho fatto a me hanno visto l'esenza di due stili diversi il tuo e quello di questa voce è anche un'altra facciamo il tavolo che c'è con il piano con la luce con il panice con il panice con il panice con il panice come il panice come il panice mi fa piacere anche se ne chiede l'SMS dove sono massimo preparatore perché vengo sempre a prendere il caffè qui fanno i piocci cuore il caffè il panice il panice insomma vai e a dopo piacerò nel cuore perché insomma ci vengo spesi tutti i giorni a prendere il caffè insomma è un'abitudine migliorava la metà il peso purtroppo prima l'anno 90 c'è il terzo l'SMS purtroppo questa grande struttura è in crisi ma io ci vengo lo stesso perché insomma comunque si fa un ruolo e c'è la barista qui che fa l'arte caffè insomma fa sempre i sentimi sulla schiuma insomma ma un artista un artista non è stato la metà come ok questo ci siamo anche noi questo è il lunedì il minotere è che andiamo poco ma Massimo ho cantato bellata una sola però tanto lo sparo tanto solo cortine senza ripetere così ma questa è la storia uno la moglie è il mare e lui a casa ha lavorato che è praticamente la nostra di tutti e allora lui dice il pensiero che vorrebbe fare questo mare allora diceva è un barcelletto questo è un barcelletto so che sei lontano al mare come vorrei venirti a trovare e sdraiarmi con te sul tuo asciugamano sfiorare le tue labbra con la mia mano vorrei tuffarmi con te nel bel mare ed abbracciarti perché non so notare poi sdraiarmi sul tuo storino bagnare le tue labbra con un bacino vorrei essere un cielo un gabbiano e portarti un biglietto per dirti ti amo vorrei essere un raggio di sole scaldar la tua pelle e poi puoi fare l'amore con te grazie 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 ecco il signore prego prego accompagni di corso via la magia diciamo preghiamo accompagni di corso alla magia del tempo ma non voglio dire io sono una riflettina non sono una parola in madre e qua sono riflettini doppia però stando dall'altra parte perché davano il campino io volevo dire che per me rifredi questo quartiere al di là delle cose politiche sociali che è caratterizzato da persone che lo amo moltissimo è un segno molto bello addirittura ci pensavano ora l'hanno rimpuso non so se è pulitissimo e passandoci ho scoperto che lo amo più dell'anno è veramente qualcosa di molto bello è stato assegnato l'infanzia dei miei figli ci facevano il bagno ci pescavano è bello e l'acqua discorre nel sugo molto forte e noi abbiamo un bambino che ce l'ha ecco un bel applauso io penso sentiamola anche la signora mi chiedo soltanto dire che a prescindere ho sempre rifiutato la lettura di fantasina la lettura mi è venuta l'occa di che c'è pieno di leggerla ci sono i vicini di cuore di propria stare c'è la vasta scelta c'è una piccola di premia dipende io io amo la fatta scelta ma mi capita di leggere le cose che mi piacciono sono come tutto come grazie bene questo è bella la sua osservazione sul terzo perché io credo che il fiume anche piccolo che attraversa una porzione di una città è un filo conduttore anche culturale io ricordo quando il ponticino è crollato per il piccolo allulione che abbiamo avuto sono passati circa 25 26 anni quando è crollato il ponticino qui del terzo è proprio dove abito io guardate ho un ricordo in Venezia avevamo il balcone un po' aperto mio figlio uno dei figli aveva la tesi di laurea che lui scriveva a macchina non c'era neanche il computer la scriveva ma cominciano a volare i questi viene come un pendo improvvisamente crolla il ponticino e guardate va via la luce va via l'ampro io vedo i miei due figli io ero sola con loro mio marito era in gita con la scuola coliziano aveva accompagnato i ragazzi i miei due figli scappano perché avevano lasciato la macchina fuori non vi dico il mio dramma lì mi metto a urlare chiedendo aiuto fermate i figli perché vedi subito l'acqua che quasi superava il balcone nessuno ha mai parlato della piccola alluvione che noi abbiamo quando è strarivato ed è crollato il ponte io l'ho visto con gli occhi proprio un ornale sì sì è stata il 92 novembre del 92 io ora ho cancellato un po' il mese cosa ma per me io ho passato un dramma perché i figli che scappavano io li volevo bloccare per dire non importa la macchina ma che se la porti via l'albione scappai non c'era luce chiedevo aiuto aiuto che mi aiutassero a fermare per fortuna andò bene perché loro nell'ancolo che abbiamo noi via della piaccia non c'era nulla non c'era l'acqua alta altrimenti come successe in quel piccolo coso li travolgeva come successe che poi la stanta per esempio le cose della spazzatura ruffero i vetri fu un dramma ecco il cinema in piazza d'almanza le faccio usci e c'è la ritorna del villano dalla vita fu terribile fu terribile questa contemporaneamente era stranifato il terzolle e il munione più forte fu sul munione ma lì il terzolle proprio in quello che a rifreddo si chiama lo stretto fu terribile tutti i negozietti ebbero danni terribili e ricordo che la notte noi che abitavamo lì io con le candele con la gente del palazzo portavamo aiuto e quelli piangevano i negozi Erold e la mesticheria gli altri perché aveva l'annuvione tutta la roba gli era marcita dentro non ne ha parlato nessuno di questo evento perché è chiaro interessò i pochi e forse chi siamo stati toccati emotivamente l'abbiamo quasi rimosso perché ci fece veramente io ricordo c'era gente che rimava le gambe e poi c'era ricordo il pubblico del 66 il 66 dice ma allora qui è come allora ecco il ricordo del terzo ombre mi ha riportato a voi bene se ci sono altre domande pertinenti naturalmente ai due libri di fantascienza di i due libri due biografie alzate la mano e parlate perché ci farà piacere altrimenti ringraziamo ringraziamo i due autori ringraziamo il musicista ringraziamo il cantante di aver citato questo bellissimo ringrazio 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 Grazie a tutti.